Ok, 3, 2, 1... Presidente Bartelli, oggi l'inaugurazione di questa mostra, questa partnership si rinnova col premio Coseano, premio Arte Coseano, qual è il significato di questa partnership? Per noi, come dicevo durante la conferenza, è un piacere, un onore ospitare un comune che ha avuto poi il coraggio di guardare... ...e questi hanno programmato, questo comune ha programmato una capsula del tempo tra 100 anni, bravi, chapeau, hanno uno sguardo molto lontano. Per Città Fiera è una naturale conseguenza, noi da tempo, soprattutto ultimamente, ci teniamo a dire che siamo una comunità di 250 aziende, 1.700 dipendenti, al servizio dei cittadini e anche vogliamo essere al servizio del territorio, quindi essere vetrina e collaborare con i comuni del territorio friulano è per noi naturale ma anche molto piacevole. Non solo un luogo dello shopping, non solo un luogo del divertimento, ma della cultura in vista della ripartenza. Certo, la cultura è un elemento fondamentale, è il vero capitale sociale che possiamo dare ai nostri giovani per formare un futuro migliore e direi poi anche un luogo dove si possono incontrare non solo dei beni e dei servizi, ma anche dei valori. Grazie.